Buongiorno e benvenuti, guardate che sole come splende su questo colore bellissimo della Peugeot E2008 è stata lasciata ieri con il 28% e tutta bagnata e impolverata e oggi alle 4 del pomeriggio la tiriamo fuori dal box con il 98% di batteria direi un ottimo risultato questa ricarica attraverso una spina normalissima asciunco per farvi capire come sia facile utilizzare una macchina elettrica anche in condizioni un po' diverse rispetto a quelle comuni di casa, lavoro o magari dove c'è una colonnina basta una spina la mettete sotto carica e lei si carica come un cellulare oggi faremo la prova che abbiamo inaugurato con la Tesla Model 3 qualche settimana fa ovvero il passo del Foscagno questo passo sostanzialmente che collega Bormio con Livigno con la Tesla Model 3 l'abbiamo fatto da Livigno verso Bormio e ci è stato un po' criticato dicendo che non fosse realmente corretto come video perché dimostrava soltanto la discesa e non la salita e quindi iniziamo con la Peugeot E2008 a prendere i dati da Bormio, Bormio fino a Livigno e da Livigno fino a Bormio così avremo salita con il consumo della salita nel quale non ci risparmieremo e avremo la discesa in cui metteremo alla prova la frenata rigenerativa di questa E2008 per capire come e fino a che punto deciderà di tagliare potenza rigenerante ragazzi a questo punto non vi resta che iscrivetevi al nostro canale lasciate un like se il video vi piacerà e soprattutto attivate la campanella delle notifiche e seguiteci su Instagram Siamo con 270 km di autonomia e la frenata rigenerativa un pochino limitata va detto che la macchina era parcheggiata in box a 7 gradi quindi sicuramente non avrà la batteria calda ci aggiungi il fatto che comunque si avvicina verso il 100% quindi non ha tutta la frenata rigenerativa disponibile però comunque guardate ragazzi adesso la cami vi inquadra quando mollo tutto un pochino di rigen mi rimane lo stesso però insomma non abbastanza da poter andare giù senza utilizzare il pedale del freno 8,8 kWh in rapida discesa però insomma siamo partiti da pochissimi chilometri quindi ci sta andiamo avanti e vediamo come si evolve il consumo Siamo arrivati adesso giù a Bormio 12 km fatti consumo di 0,8 kWh ve lo do giusto insomma per darvi un dato interessante della discesa da Santa Caterina fino a Bormio adesso però azzeriamo quindi tengo premuto tutto va a zero e partiamo qui da Bormio e andiamo fino a Livigno 1800 metri e vediamo quale sarà il consumo del primo tratto di salita tengo a dirvi che però partiamo con il 96% di batteria quindi non con il 98% come avevo detto all'inizio del video ma con il 97% siamo partiti da Santa Caterina e con il 96% partiamo qui da Bormio e quindi vediamo con quanto è l'oreno su ragazzi ma come si arrampica su bene questa 2008 con questo volantino ma guarda che roba che inserimento in curva porca miseria bella 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 giù tutto e siamo in eco e ti spara fuori benissimo 33,4 kWh su 100 km ok vabbè è altissimo però nel senso è salita tra l'altro anche bella impegnativa non ci si potrebbe aspettare nulla di diverso stiamo andando su anche abbastanza spediti anzi ragazzi metto anche in normal perché voglio assaggiare un po' le doti dinamiche di questa 2008 e guardate che roba guardate che inserimento in curva veramente veramente bella considerate che è un SUV è comunque una macchina con un baricentro alto c'è una triangolazione veramente del posto di guida perfetta guardate che roba va su che è veramente un piacere ed è il bello delle auto elettriche non c'è per forza bisogno di avere 400.000 cavalli per godere lo stesso di un ottimo piacere di guida baricentro basso dato dalle batterie insomma bella mille dopo guidi anche te dopo guidi anche te la devi provare che spettacolo ragazzi guardate che posti che che mamma mia guarda non riesco a formulare le parole abbiamo fatto il mare abbiamo fatto la montagna cioè questa Peugeot che ci ha lasciato in prova la concessionaria GP car di Monza cioè quante avventure ci stiamo facendo ragazzi veramente veramente bellissimo grazie ragazzi siamo arrivati a 2274 metri e adesso inizia la discesa 36,0 kWh 23 km percorsi e adesso sta già scendendo rapidamente perché appunto inizia tutta la rigenerativa fino a tre palle poi di nuovo un po' di salita e poi di nuovo tutta discesa fino giù a Livigno sono veramente curioso di vedere quale sarà il risultato della media tra andata e ritorno secondo punto più alto raggiunto tre palle 2200 metri di altezza 30 kWh già in rapida discesa per la lunga rigenerativa che ci separa da Livigno che è proprio qua sotto ragazzi guardate come comunque anche se siamo al 25 di maggio la neve abbondante che è venuta quest'inverno che purtroppo nessuno di noi ha potuto sfruttare comunque rimane e resiste ancora a questi 6 gradi comunque non c'è alcun taglio di frenata rigenerativa quindi direi ottimo lavoro per il momento per il momento perché il pezzo difficile è il ritorno quella è una lunga rigen 1827 metri e siamo a Livigno stiamo costeggiando il torrente per andare a fare una bella merendina leggerissima alla lateria di Livigno 22 kWh il consumo vi ricordo che siamo partiti con circa 36 kWh in cima alla dogana 30 qui sopra tre palle 21,9 continua a scendere qua giù a Livigno quindi direi ottimo 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 risultato 36 km di montagna e insomma per tutti gli scettici che dicono eh ma l'auto elettrica in montagna come fa il freddo si scarica oppure se c'è la neve non puoi andare insomma 21,9 kWh un ottimo risultato senza alcun minimo problema andiamo a mangiare e a ricaricare il nostro stomaco 216 km di autonomia segna la Peugeotina e oltre il 75% di batteria vi ricordo che siamo partiti con il 96 da Bormio comunque dopo attacchiamo il cavo per vedere la percentuale di batteria proprio ora che dobbiamo restituire la Peugeot io comincio a capire le sue indicazioni avevo ipotizzato oltre il 75% di batteria siamo al 77% 21,6 il consumo finale vuol dire 222 km di autonomia in queste condizioni salita e discesa direi che è veramente un buon risultato adesso andiamo a fare merenda e poi vediamo quale sarà il consumo del ritorno con la lunga rigenerativa finale non è la nostra giornata oggi la latteria è chiusa siamo arrivati troppo troppo tardi infatti vedete la mia faccia triste perché non ho mangiato cioccolato insomma non ho riempito il mio stomaco però fa niente ci pensa la Peugeot a darmi soddisfazioni partiamo con il 77% 21,7 kWh siamo già sulla salita verso tre palle vediamo come arriviamo su in cima alla dogana e poi da lì sono curioso di vedere il risultato finale passiamo alla liscesa dopo la dogana 23,2 kWh il consumo generale mentre il consumo dalla partenza di Divigno è di 15 kWh sono molto curioso di vedere se riusciremo a battere o comunque ad avvicinarci a mi sembra un 54 kWh che era il consumo della Model 3 ma non sono sicuro va da memoria ragazzi quindi iniziamo la discesa sta già scendendo a 22,9 quindi sono molto molto fiducioso vi ricordo che siamo partiti da Livigno con il 77% di batteria ok ragazzi siamo arrivati a Bormio con 13,1 kWh direi un consumo pazzesco se pensiamo alla salita alla discesa che abbiamo fatto Bormio-Livigno Livigno-Bormio con 1000 metri Bormio 1800 metri Livigno e con un passo quello del Foscagno che ci porta quasi fino a 2200 metri 46 Wattora per i Teslari e 4,6 kWh per tutti gli altri è il consumo medio che c'è stato da Livigno a Bormio con la Model 3 siamo stati attorno ai 41-45 quindi direi grandissimo lavoro da parte di Peugeot per quanto riguarda la frenata rigenerativa certo Model 3 è ancora più efficiente però va detto che ha trazione integrale quindi ha due motori quindi doppia energia rigenerata se pensiamo a questo motore diciamo chiamiamolo così di questa Peugeot non ha mai tagliato potenza non c'è mai stata una diminuzione del rigen quindi veramente veramente un bilanciamento energetico e soprattutto una gestione termica eccellente 12,9 continua a scendere noi siamo arrivati al supermercato dove faremo la prova della percentuale vi ricordo siamo partiti con il 77 e il consumo con noi continua a scendere 45 wattora 4,5 kilowattora sono davvero davvero contento siamo quasi al 75 per cento di batteria secondo diciamo l'indovinometro chiamiamolo così 248 chilometri di autonomia abbiamo consumato il 4 per cento di batteria siamo al 73 per cento ragazzi insomma con la Tesla avevamo consumato il 2 per cento di batteria addirittura con un clima un pochino più freddo e con la regen limitata quindi diciamo che Tesla è più efficiente però davvero ragazzi non siamo molto lontani qua quindi insomma sono davvero davvero contento brava Peugeot e grazie GP Car per avercela lasciata per questa settimana ragazzi a questo punto se siete arrivati fino adesso non vi resta che lasciare un like se il video davvero vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale e seguirci su Instagram ciao ragazzi buona serata